Si studia, si fanno ricerche e viene creata continuamente la vita in laboratorio. Una continua ricerca. Ogni singola persona è in grado di creare nuove vite, anche con il pensiero. Con il pensiero si può di tutto di più. Basta l'impegno e la passione, ma soprattutto bisogna studiare. Le invenzioni sono infinite. I test si fanno personalmente. Faccio un esempio. La semplice alimentazione, basta variarla, basta cambiare l'alimentazione, prodotti nuovi, abbinamenti nuovi, diversi. E quindi abbiamo una continua evoluzione genetica. Io lo so per esperienza personale. Ognuno di noi ha un suo metodo. Qual è il metodo? Qual è il metodo? È abbinare gli alimenti. Vi faccio un esempio molto semplice. Provate a mangiare il topinampe. Topinampe è una specie di patate. Qualcuno lo chiama carciopa. Io lo prendo tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Lo faccio un bel letto. Prendo il decotto. Quindi, qual è il futuro? Ognuno di noi ha il suo futuro. Se noi guardiamo la scienza e la tecnologia, i ricercatori e gli studiosi che fanno? Prendono l'inedito tramite gli studi e trovano sempre nuove soluzioni, nuove tecnologie. Lavoro il cervello. Ci sono dei processi, ci sono degli scenari. Con che ritorno sempre all'alimentazione? Io sto prendendo note appunto di tutto quello che mangio. Ad esempio, prima l'alloro non l'ho tenuto in debito conto. Eppure, un'erba molto digestiva, purifica, aiuta la diuresi. E lo stesso il topinampe. Io questo topinampe l'ho seminato al mio orto. Strada facendo. Io lavoro da Fucino, c'è una strada, una strada diciamo strada, strada 40. Poi c'è una strada interpoderale. Ho visto i fiori gialli, però non sapevo che era il topinampe. Alla fine l'ho preso, l'ho seminato al mio orto. E ho apprezzato le sue innumorevoli virtù. Quindi, la vita è la vita che è fatta di acqua, di alimentazione. Ma soprattutto l'alimentazione. L'alimentazione cambia la nostra vita. Noi siamo gli artefici della nostra vita. Allora, adesso io ho un pezzo di cosa. Sto leggendo il messaggero, il messaggero, un giornale del Milano. E ho l'abitudine di prendere nota ed appunti. Siccome ho una miriade di pagine, di pochi, di appunti, però molto utile perché mi rilascia. Sì che mi rilascia. La diluizia non la vedo poco. Tutti i giorni vado presto a letto. E qua, però la notte, mi alzo presto. Ecco qua, adesso mi sono alzato un po' tardi, alle 4. Poi sto un'ora e mezza, due ore, poi mi rimetto a letto. Io faccio il braccio da Greco. Però adesso sono disoccupata. Ma quest'anno spero di andare in pensione. Sono classe 1955. Io quando mi metto a leggere qualsiasi giornale ho una memoria creativa, una memoria evocativa. Basta che vede e cominci a prendere appunti e il cervello mi viene, vengono a mente, torna a mente molte cose, soprattutto crea le cose. La memoria è infinita. Noi sappiamo che la vita è strana. Ci riserve molte sorprese. Ci sono le malattie neurodegenerative. All'improvviso arriva la malattia. Quando arriva la malattia cambia totalmente la vita. Cambia totalmente la vita. E quando cambia la vita dobbiamo adeguarci. Poi col passare degli anni nessuno è esente da malattia. Pensiamo di sta bene. Vabbè, comunque queste malattie neurodegenerative sono graduali o improvvisi. E poi comincia la somministrazione dei farmaci. Farmaci, farmaci, farmaci. Allora è vero che bisogna somministrare i farmaci, però possiamo adottare anche un altro sistema con le nostre precauzioni. Le precauzioni quali sono? Le partiamo sempre dal nostro comportamento di vita, dall'alimentazione, degli eccessi nel bere, nel mangiare, nel prendere freddo, nel sudare, anche il tipo di lavoro. Ma gire e rigire si finisce sempre alla salute. Vabbè, sento, io mi fermo qua perché qua c'è una montagna di cose da leggere, studiare, apprendere appunti. Adesso devo leggere qua il messaggero, poi il solo 24 ore, poi c'ho parecchi libri di... libri so, qualche tipo di libri. Libri vecchi. Ecco, adesso mi trovo questa altra rivista, vedi. La vediamo? Vedi, all'improvviso questo. Successo è tutto, vedi. La vita è più bella. Intervista esclusiva al tecnico del Bologna, nella sua casa di Roma, dopo le cure per la lucemia. Ora godo in ogni momento e mi capita di piangere, ma mi fa piacere. Prima trattamento... Prima trattenevo le emozioni, adesso li vivo pienamente. Ecco come cambia la vita. Vedi? Onore e merito a questa persona. Umile. Ecco qua. Questo è come un pulmine, c'è il sereno. Capita a tutti. Capita a tutti. Può capitare. Vabbè, do una buona giornata, auguro una buona giornata a tutti i... Io dico delle spettature a tutti quelli che vedono questo video. Questa qui, questo è un baglio di appunti. Vedi, io prendo gli appunti. Questa quale è? Ve lo faccio vedere. Questi sono i giornali che devo leggere. Vedi? Solo 24 ore. Altro solo 24 ore. Altro solo 24 ore. La mia passione. Legge. Leggo di tutto il video. Quando è una persona legge, impara.